L'Associazione Lerici Domani, venerdì, organizza un evento per migliorare e diffondere il dialogo tra genitori e figli. Sì, in effetti l'Associazione Lerici Domani è sempre impegnata in attività a favore della famiglia, proprio per rinsaldare i legami tra genitori e figli, tra giovani, educatori e altre figure che compongono l'immaginario in cui si sviluppa l'educazione del ragazzo e per questo venerdì abbiamo pensato di invitare una fondazione che si chiama Ema Pesciolino Rosso che già da anni è protagonista nel dialogo con istituzioni, scuole, parrocchie e altre realtà in cui l'educazione è molto importante. In cosa consisterà l'evento? Ecco, l'evento consiste nello sviluppo di una serata nella sala consigliare del Comune di Lerici. A dir la verità, nella mattinata ci sarà anche un altro evento proprio dedicato alle scolaresche con la collaborazione del Comune di Lerici. Ecco, in questa occasione la fondazione, secondo un format prestabilito, illustrerà alcuni contenuti che saranno molto utili ai genitori per far sì che il loro dialogo con i figli sia sempre più proficuo attraverso una reciproca comprensione, cioè il genitore deve fare uno sforzo effettivamente per calarsi nei panni del giovane adolescente verso il quale sente il dovere di arrivare ad educarlo fino in fondo, ma è un giovane, è un'altra persona e come tale va rispettato nella sua libertà e individualità. Ricordiamo allora dove e quando? È allora la serata 8 febbraio alle 20.30 nella sala consigliare del Comune di Lerici.